11.25 No, assolutamente no Siamo in linea? Va bene, in questa seconda parte della frontale ci occupiamo di aspetti ancora, se possibile, più concreti, cioè di come materialmente si documentano i costi che abbiamo sviluppato e quindi come si allestisce una efficace rendicontazione, una resocontazione delle attività e dei costi collegati alle attività. Una prima elementare premessa, la rendicontazione non è un appendice della gestione progettuale, cioè non è un allegato finale che facciamo quando il progetto è concluso, la rendicontazione è, come vi dicevo in premessa, una delle fasi del monitoraggio, si fa costantemente rendicontazione e in realtà si comincia a fare rendicontazione quando il progetto inizia. Quando il progetto inizia si presuppone, anzitutto che si faccia una riunione di staff con tutte le persone che in qualche modo hanno una competenza o un incarico che tocca anche la dimensione del costo e si condividono le regole generali. E' una buona norma, per esempio, ogni volta scrivere delle linee guida, perché è fondamentale che le regole siano condivise, se i nodi vengono al pettine alla fine, spesso è drammaticamente troppo tardi. Dunque la rendicontazione è a pieno titolo una delle fasi del project cycle management, cioè della gestione del ciclo di vita di progetto. A cosa ci serve il consultivo economico? Lo dicevo, dal nostro fine, dal punto di vista pragmatico, il consultivo economico è una premessa essenziale per la liquidazione del contributo. Dal punto di vista amministrativo, il consultivo economico è anche un indicatore di realizzazione dell'attività. Su questo non voglio fermarmi e andare avanti, soltanto ricordarci che il consultivo non ci dice assolutamente nulla sulla qualità delle attività che abbiamo realizzato, sui risultati che abbiamo raggiunto e sull'obiettivo che abbiamo perseguito. Principi base. Quando è che un costo è ammissibile? Quando con sufficiente serenità la nostra interfaccia pubblica e il nostro funzionario può approvare un rendiconto? Quando gli abbiamo dimostrato che i nostri costi sono pertinenti, cioè riferibili ad azioni e operazioni ammesse ai contributi. I costi devono essere chiaramente riconducibili alle attività che ci sono state approvate. Deve essere effettivo, cioè un costo reale e corrispondente a un onere documentabile. Deve essere temporalmente riferibile al ciclo temporale del progetto, cioè deve ricadere in quello che viene tecnicamente chiamato periodo di elegibilità dei costi. Quando ci viene autorizzato l'avvio del progetto, con una lettera o con la firma di una convenzione, si entra in una fase di elegibilità dei costi. Se i nostri costi ricadono un giorno dopo la chiusura, quel costo non sarà più elegibile. Almeno che non avremmo chiesto una proroga del progetto, il che ci dice che il controllo dei tempi è uno degli aspetti essenziali. Il costo deve essere comprovabile, cioè deve essere dimostrato da un'idonea documentazione e in alcuni casi, devo dire in sempre più casi, deve essere anche qui tanzato. Cioè non è più sufficiente che io dimostri che quel costo è un costo reale, è un costo effettivo, è documentato da una fattura o altro giustificativo. Devo dimostrare che io da un punto di vista finanziario ho effettivamente sborsato il valore relativo. Questo criticizza, se è possibile, ancora di più la dinamica finanziaria, perché non posso più, soprattutto i costi esterni, di fornitori esterni, scaricarli quando avrò acquisito il compenso economico, il rimborso economico della mia attività. E ovviamente il costo deve essere nei limiti autorizzati, cioè non deve essere superiore a quanto fissato nel preventivo generale. I singoli costi, facevo prima una battuta con Ada, tra un po' lo riprendiamo, possono variare in realtà. Quello che non deve variare è il tetto massimale di spesa. All'interno del tetto generale di spesa ci sono capitoli e voci all'interno dei capitoli che viceversa, con una procedura amministrativa di cui tra brevissimo parleremo, possono variare. Questi sono i criteri di fondo desunti dai regolamenti attuativi del Fondo Sociale Europeo, cioè il regolamento CE 1083 del 2006, 1081 del 2006 e i DPR e gli altri strumenti regolativi che hanno adottato in Italia le normative europee. Siamo in una fase di variazione, perché il Fondo Sociale Europeo si sta esaurendo, 2013 è l'ultimo anno. Stiamo entrando nella nuova programmazione di cui varrebbe la pena fare un corso soltanto sul nuovo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, che potrebbe dettare una disciplina diversa da quella che finora abbiamo conosciuto. Però ci attestiamo, come dire, allo ius conditus, alla norma stabilita. Cominciamo a vedere come si rendi contano i costi. Partiamo dal difficile e poi andiamo sul facile. Come si rendi contano i costi indiretti, cioè quei costi che abbiamo detto non essere direttamente inerenti alla mia attività, ma essere indirettamente collegati, perché la mia attività in qualche modo ne assorbe una parte. Sono documentati ovviamente dall'ammontare totale. Io dovrò rappresentare l'intero costo totale. Se io utilizzo una stanza per sei mesi di una sede che ho in affitto, io dovrò rappresentare l'intero costo annuale dell'affitto. E dovrò ripartirli, cioè si dice tecnicamente sub-imputare quel costo al progetto, con metodi di calcolo controllabili e realistici, più possibile approssimati al costo reale. L'abbiamo detto, questi costi indiretti sono sede, attrezzature, costi di amministrazione, se abbiamo un'amministrazione contabile, per esempio, che tra l'altro fa il rendiconto, magari, e utenze. Utilizzeremo un criterio che è quello della sub-imputazione pro quota e in alcuni casi anche pro rata, tra breve ci andiamo. Una prima premessa. È ovvio che la sub-imputazione dei costi indiretti deve essere effettuata comunque in una proporzione ragionevole. Cosa significa ragionevole? Un indicatore per capire se la nostra sub-imputazione è ragionevole è di tipo economico. Immaginiamo che il budget della mia organizzazione complessivo sia nell'anno di 600 mila euro. Immaginiamo che il mio progetto ne valga 100, quindi un sesto, diciamo, del mio budget complessivo. Non è ragionevole che io sub-imputi un costo generale al 50%, dovrò sub-imputarla per un sesto. Cioè ci dovrà essere questa proporzionalità. Perché, come dire, commisurare lo sforzo organizzativo per quel progetto allo sforzo organizzativo complessivo rappresentato dalla base totale dei costi. Rendi contazione dei costi diretti, cioè dei costi interni ed esterni diretti. Un costo esterno è una procedura di attribuzione serena perché è un costo che per il 100% si scarica sul progetto. Si dimostra attraverso la documentazione caratteristica, quindi parcelle, fatture nel caso di professionisti esterni, ricevute fiscalmente valide, mai scontrini. I scontrini vanno evitati il più possibile perché sullo scontrino tendenzialmente il funzionario pubblico potrebbe dire, ma chi mi dice che questo è un costo effettivamente attribuito al soggetto di spesa a cui ho autorizzato il finanziamento? Questo è il vero tema. Dobbiamo sempre cercare di ottenere documenti giustificativi che siano chiaramente riconducibili al soggetto titolare della spesa, cioè la mia organizzazione. Posso in alcuni casi utilizzare una disciplina, per esempio per le trasferte, di rimborsi a più di lista in cui c'è un soggetto, persona fisica, che si prende la responsabilità di dire io ho speso tot, ti dichiaro a te organizzazione di cui io sono dipendente o collaboratore che per conto tuo ho sopportato questi costi che ti documento. Quindi in effetti a quel punto il documento giustificativo sarà la lettera dichiarata con firma del collaboratore o del dipendente. Elenco delle spese, il classico elenco a piedi lista. Lettera. Con la documentazione metterò i miei scontrini, le mie fatture, quello che serve. Un costo interno viceversa può, abbiamo detto, essere indiretto e deve essere dimostrato con imputazione proporzionale del costo che ho preso dai miei libri contabili. E qui andiamo su una materia un pochino più spinosa, che tocca anche un po' un aspetto di amministrazione societaria. Perché? Perché io posso avere dei beni di mia proprietà. Allora, un primo concetto che dobbiamo introdurre è quello di ammortamento contabile. Cos'è un ammortamento contabile? Immaginate che io utilizzi una, andiamo sul caso più semplice, una sede di mia proprietà, che io ho acquistato nel 2004, ipotizziamo, e che ho pagato 100.000 euro. Ogni bene che la mia organizzazione acquista di valore superiore all'ex milione di lire, cioè 516 euro, tecnicamente non scarica i suoi effetti, non produce i suoi effetti interamente sul conto economico, ma va in ammortamento anno per anno. Il ragionamento che c'è dietro è molto semplice. Quel bene che io ho acquisito, che supera per valore economico il milione di lire, ha un ciclo di vita. Cioè durerà 5 anni, durerà 10 anni, durerà 20 anni. Tra 20 anni lo dovrò ricomprare. Dunque, il costo, io non me lo metto sul mio bilancio interamente sul conto economico. Sul conto economico io ne metterò una parte, cioè la parte relativa al suo ciclo di vita. Se un bene dura 20 anni, io imputerò sul conto economico un ventesimo del costo d'acquisto. Queste cose non ce le inventiamo noi. I coefficienti di ammortamento o le aliquote di ammortamento sono determinati, è proprio un tipico tema di disciplina fiscale, perché ovviamente per un'organizzazione potrebbe essere vantaggioso dimostrare costi superiori nell'anno. E allora c'è una disciplina precisa che dice no, tu questo bene puoi imputarlo sul conto economico per non più del 5% o per non più del 10%. Perché faccio questo passaggio? Perché il mio progetto non dura 20 anni, dura un anno. Immaginiamo che io abbia utilizzato la sede di mia proprietà, ma questo raggiamento io lo applico anche alla strumentazione, anche alle percature informatiche, anche al pulmino che utilizzo, per esempio, che è di mia proprietà, eccetera. Io in realtà potrò attribuire al progetto una parte del costo annuale, cioè dell'aliquota di ammortamento di quel determinato bene. Per esempio un pulmino, io utilizzo un pulmino in quel progetto, sì, l'ho pagato 20.000 euro, mi sembra che l'aliquota di ammortamento dei mezzi è del 20%. Ok. Potrò attribuire al progetto la parte del pulmino, per esempio per sei mesi, del costo annuale, cioè del 20% di acquisto. L'ho pagato 20.000 euro, il 20% aiutatemi è 4.000 euro. 4.000 euro. Allora il costo annuale per me è 4.000 euro, l'ho utilizzato a un 50%, per esempio per sei mesi, allora attribuirò 2.000 euro come costo. Il ragionamento teorico non fa una grinza. Come lo documento? Lo documento, e qui andiamo su un aspetto un po' tecnico, perché dipende molto da chi sono le nostre organizzazioni, da che struttura società hanno e da che personalità giuridica sono. Nel caso delle realtà assimilabili alle aziende, cioè le cooperative sociali, avranno un libro cespiti, che è un atto societario, un registro, in cui figurano gli investimenti. Piccolo passaggio, sapete che tutte le organizzazioni hanno una struttura di bilancio fatta di due componenti, il conto economico e il conto patrimoniale. Lo sapete? Sul conto economico io ho i costi dell'anno e i ricavi dell'anno. Punto. Sul conto patrimoniale ho il capitale investito nella sezione passiva, nella sezione attiva ho le immobilizzazioni, cioè quei soldini che io ho trasformato in investimenti e che mi aiutano a svolgere le mie attività. Quelle immobilizzazioni di anno in anno avranno un loro indice di appunto ammortamento, di svalutazione e quindi si parlano col conto economico. Allora gli investimenti risultano dal mio conto patrimoniale, anche se non sono nominati uno per uno, cioè ho immobilizzazioni di 200.000 euro per esempio, però non è che c'è scritto pulmino. Pulmino sarà scritto nel libro cespiti. Se la mia è un'associazione non riconosciuta, magari io non ce l'ho un atto societario così ben definito, però ho una fattura d'acquisto di quel pulmino fatta nel 2010, magari il conto patrimoniale però ce l'ho, perché ormai anche le associazioni manutengono non soltanto il conto economico, ma anche il conto patrimoniale. Allora cosa allegherò? Allegherò una dichiarazione di subimputazione, in cui il Presidente nato a, residente in, ai sensi del DPR 445-2000, in modo che autodichiaro un fatto noto, e questo il DPR 445-2000, che è il decreto del Presidente della Repubblica sulla semplificazione amministrativa, autorizza ad autodichiarare fatti e stati noti alla persona. Autocertificazione, ai sensi del DPR subimputazione del costo. Farò una cosa così, autocertificazione, ai sensi del DPR 445-2000, tecnicamente è una dichiarazione di atto notorio, cioè di un fatto a me noto. E la disciplina è questa, che io scriverò, io ho sottoscritto Antonio Finanziagro, Presidente dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali, nato a Roma, il 2509-75, ho declinato la mia generalità, ai sensi del DPR 445-2000, articolo, 75-76, che sono gli articoli sulle dichiarazioni di atti notori, recitata questa formula magica, dichiaro che il bene in argomento consistente di un pulmino è stato acquistato dalla mia organizzazione nel 2004, è stato utilizzato per il valore di 20.000, il coefficiente di ammortamento è del 20%, dunque il costo dell'anno è di 4.000 euro, è stato utilizzato nell'ambito del progetto per sei mesi, il costo dunque imputato al progetto è di euro 2.000, allegro a tal fine i seguenti documenti, fattura di acquisto, nel caso il più semplice di un'associazione, oppure magari a quel punto allegro il libro cespiti e non c'è proprio dubbio, una copia del libro cespiti in cui figura il pulmino acquistato. Questa disciplina ha adotto anche nel caso dei beni immobili, di tutti i beni di proprietà che vanno in ammortamento. Utilizzavo sempre questa, ovviamente allegro una copia della carta di identità del dichiarante, che è un documento essenziale per le autodichiarazioni e tecnicamente è inconfutabile una roba del genere. Se ve la confutano diventa un tema di potenziale ricorso amministrativo, perché è tipicamente un atto notorio, documentato tra l'altro, non sto soltanto dicendo, dichiarando un fatto, ma per buon peso ti allegro anche gli atti relativi. Di fatto quello che sto dichiarando è che quel mezzo è stato utilizzato nel progetto, d'altra parte magari io ce l'ho nel bilancio preventivo, nel bilancio di progetto, nel budget di progetto ho scritto che avrò utilizzato un pulmino. Gli storni di spesa, ve lo stavo prima un po' anticipando. I progetti non sono organismi statici, sono entità dinamiche che nel tempo inevitabilmente variano. Gestire un progetto significa gestirne l'evoluzione e il cambiamento. Purtroppo l'unica cosa che non può cambiare è il tetto di spesa e in generale abbiamo delle rigidità nella gestione economico-finanziaria. di un progetto. Che cosa possiamo fare? Qual è il nostro margine di flessibilità? Possiamo operare degli storni. Lo storno è tecnicamente quando mettiamo che io abbia un costo del lavoro, un progetto di 100.000 euro, in cui il costo del lavoro è 50.000, il costo per servizi esterni è 20.000. Può succedere che a un certo punto io mi accorgo che ho sottostimato il costo per servizi esterni e che mi serve metterci un po' più forze e gambe. Magari ho bisogno di un altro formatore che non avevo inizialmente previsto. Questo altro formatore mi costa 5.000 euro. Cosa farò? Non posso chiedere 105.000 euro, sempre 100.000 euro mi daranno. Però posso dire, vabbè, allora a questo punto risparmio qualcosina sul costo del lavoro, tolgo un po' di ore dal progetto, farò lavorare un po' meno il mio staff, risparmierò 5.000 euro e con quei 5.000 euro pagherò un formatore. Ho spostato risorse da un capitolo a un altro. In questo caso il progetto vale 100.000 euro, io ho spostato 5.000 euro, sto sotto una soglia critica che è quella del 10%. Dunque è disciplina comune che un'operazione del genere possa essere fatta mediante una comunicazione, di cui non è necessaria una autorizzazione. Può succedere che io debba fare degli spostamenti più consistenti, che superano il 10% complessivo del budget di progetto, perché magari io devo spostare 20.000 euro, cioè il 20% del mio progetto. E lì andiamo sul critico, perché spostare 20.000 euro da un capitolo in alto significa un'alterazione significativa del piano delle attività. I costi non sono campati per l'aria, sono appesi a delle attività, quindi incidono anche qualitativamente e non solo quantitativamente. A questo punto io dovrò scrivere una documentata relazioncina in cui dirò è accaduto questo, c'è stata questa variabile imprevista, ci siamo accorti che cercherò di documentare il perché e il per come sono costretto a un cambiamento e dunque chiedo un'autorizzazione a uno storno di bilancio nella ragione del 20% pari a euro 20.000 euro dal capitolo A al capitolo B, da destinare all'ingaggio del formatore Y. Prego. Questa è una regola generale, ma ci possono essere per esempio dei casi eccezionali dettati dal bando stesso, perché per esempio per un bando alla quale abbiamo partecipato c'è c'è stato detto insomma dalle linee guida che spostare delle somme da una voce all'altra deve essere autorizzato. Sì, 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 assolutamente sì. Quindi diciamo che questa è la regola generale, però non è che sono cose... Non è legge scritta sulle pietre, è assolutamente così. È quello che vi dicevo in premessa, purtroppo il tema della rendicontazione è un tema critico perché non c'è una disciplina uniforme. Come dire, ogni amministrazione la regola un po' prodomo sua e spesso ogni bando detta dei regolamenti, il che devo dire è anche una fortuna. Cioè la situazione più critica è quando non ci sono regole scritte, per esempio non c'è un finanziamento che parte con una convenzione scritta, cioè con un contratto fra me e l'amministrazione che disciplina questi elementi. Lì è tutto un po' più complicato. Quello che vi sto presentando è la disciplina abbastanza comune, cioè la disciplina adottata a livello di enti centrali dello Stato, i ministeri nei propri bandi pubblici adottano questa disciplina, sul fondo sociale si adotta questa disciplina, poi può capitare l'amministrazione regionale, l'amministrazione comunale che ne adotta un'altra. E su questo c'è poco da fare. Si tratta di sapere che regole del gioco adottano. E vabbè, se bisognerà chiedere un'autorizzazione per uno storno anche di importo inferiore, l'importante è saperlo all'inizio di attrezzarsi per... Va bene? Posso andare avanti? Microfono? Voglio capire se ho capito bene. Nel caso si dovesse superare il 10% c'è da fare una dettagliata relazione e chiedere l'autorizzazione per cui loro possono anche dire non autorizzare. Certo. Invece all'interno, al di sotto del 10% comunico soltanto e loro sono tenuti a... Ripeto, normalmente sì. Almeno che non ci sia una precisa norma scritta sulla Convenzione che dice che no, tutto va autorizzato. Anche se io sposto 110 centesimi, me lo devono autorizzare. Lo dirò alla fine ma a questo punto lo anticipo. Chiaramente uno degli aspetti fondamentali di una buona gestione è che il giorno stesso in cui il mio progetto parte io mi attacco al telefono e prendo un appuntamento col mio interlocutore, con la mia controparte, cioè col funzionario competente con cui poi dovrò gestire la rendicontazione del progetto. Insisterò per farmi ricevere perché non è neanche sempre scontato e andrò lì con una buona struttura, con una riunione ben preparata, con un questionario scritto, magari lo scrivo insieme a lui un verbalino della riunione che abbiamo tenuta e gli chiedo gli aspetti fondamentali, le discipline fondamentali di gestione del progetto. Perché tutto sommato metto così, lui anche in una situazione più agevole, cioè saremo stati trasparenti, avremo insieme costruito una struttura di regole trasparente sulla gestione e io avrò soprattutto degli elementi molto chiari da comunicare al mio gruppo, al mio staff, al mio presidente, a chi che sia. Guardate, questo è un aspetto proceduralmente che secondo me è importante, che cozza un po' contro la nostra cultura che non è molto orientata allo scrivere, noi scriviamo poco e invece bisogna scrivere soprattutto questi aspetti qui, per esempio voi capite che gestire un progetto significa fare lavoro di gruppo, allora una linea guida, magari tre slide messe insieme con gli aspetti essenziali, un Gant fatto decentemente, la VBS, regole di gestione economico-finanziaria, è un materiale preziosissimo, tra l'altro da colleghi a colleghi. Noi progettisti a volte ci accogliamo anche delle belle responsabilità, è anche un modo, insomma, per ripartirci le responsabilità, per non sentirci dire ah ma non ce l'avevi detto. Quindi scriviamo, ecco, è proprio un... tra l'altro col tempo si accumula anche un patrimonio di conoscenza, perché poi non è che fronteggio ogni volta l'ignoto, magari si tratta dello stesso progetto gestito due anni fa e quindi dovrò semplicemente riciclare un prelaurato che già esiste. Chi voleva fare una domanda? Ok. E veniamo alla rogna di tutte le rogne, la madre di tutte le rogne, cioè la rendicontazione del costo del lavoro. Tecnicamente, molto spesso, direi quasi sempre, il costo del lavoro è subimputato. Cioè, ormai ci siamo familiarizzati con questi termini, io non avrò attribuito il mio costo di lavoro interno per intero sul progetto, il mio psicologo non lavorerà interamente per il suo titolo retributivo sul progetto, ma solo per una quota parte. Atti fondamentali da utilizzare per la rendicontazione. All'avvio del progetto io predisperò delle lettere d'incarico per il personale interno, controfirmate dal mio collaboratore o dal mio dipendente, in cui determinerò l'attività che deve svolgere, i tempi e ovviamente la retribuzione che sarà quella del suo contratto. Proprio anche un documento semplice, una paginetta, in cui però ci sia chiarezza di questi aspetti, perché questo atto farà parte del rendiconto. Altrimenti potrebbero dirti, ma chi mi dimostra che questa persona effettivamente ha lavorato nel progetto? Non esiste un modo metafisico per dimostrarlo, perché il fatto che, per esempio una persona che svolge un lavoro intellettuale, non è che ci sono dei controfattuali incontrovertibili che mi dicono che lui effettivamente ha lavorato sul progetto. Gli unici atti che possono dirmelo è una lettera controfirmata che vale come dichiarazione anche da parte sua, lavoratore, non soltanto da parte mia, quindi unilaterale di soggetto datoriale. E questo io lo legherò. Poi che cosa farò? Acquisirò e raccoglierò in modo ordinato i seguenti atti. Anzitutto, l'atto fondamentale è ovvio, è il cedolino paga. Dal cedolino paga o busta paga, che cosa risulta? Ovviamente risultano gli elementi minimi, risulta il lordo, perché io sulla prima riga, normalmente di una busta paga, ho lordo retribuito. Nel caso dei lavoratori dipendenti c'è proprio il dato base, cioè il dato orario, il numero di ore, la moltiplicazione del dato base per il numero di ore mi in genere è lordo. Io devo documentare anche gli altri costi, cioè devo documentare il TFR, devo documentare la tredicesima, devo documentare gli oneri fiscali a carico della mia cooperativa. Mi chiedeva prima Ada come faccio a documentare queste cose. Allora, con ordine. Gli oneri contributivi, cioè gli IMS e gli INAIL, sono documentati dai famosi modelli F24, che sono quei moduli, quei modelli fiscali, che ormai sono processati direttamente dalle banche e facciamo anche online, in cui io purtroppo aggrego i costi, cioè io non ho 300 euro contributi IMS per tizio e caio, ciò trimestralmente tipicamente o bimestralmente, tutti i costi contributivi e fiscali con i vari codici, quindi avete il codice contributi IMS, il codice contributi INAIL, il codice oneri fiscali, IRAP e quant'altro, dell'intera organizzazione. Allora in questi casi devo compilare un fascicoletto fatto così, cedolino F24, una prospetto che funziona come un'autodichiarazione, quindi richiamerò sempre il DPR 445-2000, in cui dirò certifico o dichiaro che per il soggetto XY è stata versata una quota contributiva IMS pari a euro Y subimputata sul progetto. Quindi adottorò lo stesso criterio, cioè quanto ho versato sul mese di contributi per la persona? 300 euro. Qual è la percentuale di subimputazione sul progetto? 40 ore pari al 30%, quindi non imputerò 300 euro di contributi, imputerò 300 euro per il 40%. Adesso vi farò vedere dei prospetti Excel, un po' più semplici, per fare queste operazioni che altrimenti diventano un po' macchinose. Che comunque di solito possiamo chiedere al consulente del lavoro? Assolutamente. Tra l'altro non so se sbagliamo, ma questa richiesta noi l'abbiamo formulata al nostro consulente del lavoro non dettagliandola operatore per operatore, ma per progetto. Cioè lei ci dice che nel progetto dove sono impegnati tre educatori, per ogni educatore abbiamo speso 100 euro, quindi noi facciamo una dichiarazione dove si dice che l'F24 relativa agli operatori di quel progetto è pari a 300 euro e finora ce li hanno accettati. Vanno bene così o dobbiamo? Guarda, va bene, adesso vi sto dipingendo la situazione più complessa, cioè quella in cui magari non avete un bravo consulente del lavoro che non vi produce degli trasparenti prospetti epilogativi e dovete farveli in casa. Perché secondo me è più utile avere tutte le consapevolezze professionali, poi se avete un bravo consulente del lavoro vi aiuterà molto perché magari ve lo fa lui un prospetto epilogativo. Mi sembra utile che impariamo a farcelo anche in casa, a farcelo anche da soli. Viaggio e trasferte per ora lo saltiamo, lo saltiamo anche questo, andiamo subito a vedere un attimo questo famoso prospetto, così non ci torniamo dopo. Allora, come si fa tecnicamente la subimputazione? La formula la vedete in basso, subimputazione è il lordo o contributi a carico dell'azienda fratto le ore lavorate nel mese per le ore dedicate al progetto. Questa formula la utilizzo sia per calcolare la subimputazione delle ore sul progetto, sia per calcolare la subimputazione dei contributi per le ore attribuite al progetto. Quindi contributi 300 euro, ore lavorate nel mese, 160, immaginiamo che sia un full time per le ore dedicate al progetto, 40. Compilerò un prospetto riepilogativo generale, così come lo vedete qui. Di ogni figura progettuale metterò figura 1, lordo mensile euro X, quello che a me è costato generalmente, subimputazione, l'importo subimputato e lo stesso ragionamento lo farò anche per i contributi. Contributi a carico dell'azienda per quel lavoratore nel mese X, subimputazione dei contributi. Un prospetto di questo genere è trasparente e si presta ad essere autodichiarato. Quindi voi farete un'autodichiarazione di questo atto qui. L'F24 mi documenta gli oneri previdenziali assicurativi a carico del lavoratore. Che cosa resta? Resta il TFR nel caso dei lavoratori dipendenti. Il TFR è documentato dal conto patrimoniale essenzialmente, dal bilancio patrimoniale dove il TFR è una posta di accantonamento, quindi se proprio molto, normalmente nessuna amministrazione ti chiede il conto patrimoniale per dimostrare che il TFR è stato accantonato. Se trovate l'amministrazione per qualche strano motivo rognosa, voi farete l'ennesima autocertificazione in cui direte l'accantonamento TFR nel mese o nell'anno, scegliere voi l'unità di misura per il lavoratore è stata X imputata al progetto quanto a Y corrispondente a tot ore nel mese o nell'anno. Diciamo che la posta dell'accantonamento TFR invece che farla mese per mese potete farla anche a consuntivo per l'intero anno. Se ci allegate il conto patrimoniale è naturalmente inconfutabile un'operazione del genere, anche se il conto patrimoniale riporterà il dato dell'anno precedente, però dimostra che l'organizzazione effettua gli accantonamenti necessari. Oppure, veramente questo è un tipico atto notorio, quindi in realtà potreste anche semplicemente autocertificare senza legare il conto patrimoniale. Ripeto, prego. Scusa, se il progetto è una frazione di anno, il trattamento di fine rapporto lo troviamo sull'ultima busta paga, il problema si pone solamente quando i progetti sono ultra annuali o a cavallo di un doppio esercizio. Quindi la rendicazione della prima parte dell'esercizio compare sul conto patrimoniale o quantomeno sull'autocertificazione. La seconda parte invece la troverà nel prospetto paga. Nel prospetto paga, nell'ultimo cedolino dell'anno. Il problema è se il progetto, il periodo del gibilato dei costi arriva a toccare l'ultimo mese dell'anno. Sì, dipende da quanto dura il progetto. Se entro l'anno lo troverà. È pacifico, certo. Il problema sorge quando è ultra annuale in cui per ogni anno o frazione l'anno bisognerà. Il che però è molto frequente perché è difficile che un progetto inizi il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre. Quasi sempre i progetti sono a cavallo di due esercizi economici. Quasi sempre. In realtà questo è proprio un tema di autocertificazione. Poi all'autocertificazione per il nostro buon cuore allegheremo tutti gli atti che vogliamo, il conto patrimoniale piuttosto che l'ultima busta paga. Torniamo un po' indietro. Perché abbiamo fatto una piccola fuga in avanti. Viaggi e trasferte. Viaggi e trasferte l'abbiamo soltanto accennato. Viaggi e trasferte si documentano con una lettera d'incarico in cui quello non se ne va in giro a zonzo per subrivate ragioni ma per un preciso incarico che vi è stato conferito. Dichiarazione con rimborso a piedilista delle spese sostenute. Tipicamente costi di viaggio, biglietti aerei. Se usa un mezzo privato può essere ammissibile la carta carburante che compilerà ad hoc però ovviamente. Quindi sarà non una carta carburante aggregata ad altri veicoli ma ne adotterà una propria. Può essere ammissibile anche una ricevuta del benzinaio che a richiesta può essere data e gli altri elementi. Questo è l'unico caso in cui possono essere ammessi anche scontrini per spese minute. Se si prende un panino può essere un po' complicato che al paninaro si chieda la fattura intestata. Tutto quello che può essere fatturato ci risolve il grane comunque. Certo sulle spese minute possiamo in questo caso anche accettare scontrini purché siano allegati a una dichiarazione poi del lavoratore. Veniamo alla questione del prorata e pro quota. Cos'è il pro quota? Il pro quota è la quota di utilizzazione di un determinato bene materiale. È un criterio contabile che tipicamente si applica all'utilizzo di beni immobili, cioè di sedi, di spazi eccetera. Ora immaginate che il mio progetto utilizzi una stanza in cui faccio cancelling, oppure faccio riunioni di staff e coordinamento, oppure faccio sportello sociale. È una stanza, non è tutta la mia sede che magari è fatta di quattro pani. Sarà una stanza di 25 metri quadri e la mia sede è di 100. In questo caso io ho utilizzato pro quota la mia sede, non l'ho utilizzata tutta. Ho utilizzato 25 metri quadri su 100. Dunque il pro quota in questo caso è ovviamente il 25%. E io potrò imputare al progetto non il costo annuale della sede, cioè quel mi sembra 3% di ammortamento delle sedi e dei beni immobili, ma soltanto un quarto del costo annuale portato in ammortamento. Il caso è più semplice se la sede non è di mia proprietà ma è in affitto. In quel caso io ho un affitto annuale, 12 mila euro l'anno, che ne so, porterò un quarto del costo annuale. Il pro quota è il periodo di utilizzazione, proprio perché il mio progetto potrebbe non essere di durata annuale o potrebbe essere a cavallo di due esercizi, inizia a marzo 2013 e finisce a ottobre 2014 o finisce a aprile 2014. In quel caso io ho due esercizi fatti di sei mesi l'uno e cinque mesi l'altro. In quel caso ho un pro rata, quindi imputerò il costo della sede pro quota e pro rata per sei mesi del 2013 e per altri cinque mesi del 2014. Del coefficiente di ammortamento fiscale abbiamo detto, dove li trovate i coefficienti di ammortamento fiscale? Li trovate sostanzialmente, l'agenzia delle entrate li pubblica, ma ci sono moltissimi siti che danno, perché di anno in anno potenzialmente possono essere rivalutati i coefficienti. È difficile che ci siano grandi variazioni ma la fonte più autorevole è l'agenzia delle entrate, li trovate anche banalmente come cerca su Google. Non li aggiornano? Dovrebbero essere aggiornati perché non sono stati più. Infatti è vero, perché ci sono ancora diciture ormai veramente obsolete. Macchine elettromeccaniche. L'Asus che non si può moltizzare al 22%, quello è lo solito l'anno. Non me lo dica, io ne butto uno l'anno anche perché il lavoro del consulente è che va sempre in giro il computer. Io ovviamente ne sfascio uno l'anno di computer. Per me è una posta secca proprio. Sì, sì, è così. Ma poi c'hanno anche delle terminologie ormai abbastanza macchine elettromeccaniche. Abbastanza desuete. Calcolo del pro quota e del prorata, l'abbiamo detto, non c'è bisogno di tornarci, vi faccio vedere soltanto la formula. La formula è valore nominale per la liquola dell'ammortamento per la percentuale di impiego e questa è la formula algebrica per calcolare il pro quota. Il prorata è numero settimane di impiego fratto le 52 settimane nell'anno. Se devo calcolare il valore pro quota e prorata, praticamente moltiplico i due elementi. Su questo ci siamo già abbastanza soffermati e secondo di bene l'ammortamento ce lo siamo detti. Vediamo al dato concreto. Cioè come allestisco, qui vorrei scendere proprio sul mestiere puro, come allestisco il mio fascicolone di rendiconto. Spesso è una roba, un incartamento piuttosto voluminoso. Specie se il mio progetto ha tanto costo del lavoro e una lunga durata in termini temporali. Perché? Perché è tanta carta, documentare il costo del lavoro è fondamentalmente tanto carta. Allora, indicazioni pragmatiche ce ne siamo già trasmesse, cioè fissiamo per tempo un incontro con il nostro funzionario e lavoriamo molto di gruppo su questi aspetti. Importantissimo è determinare le regole fondamentali, non possiamo permetterci di scoprire alla fine che i costi vanno oltre che documentati anche quei tanzati, perché sono dolori serissimi. Laddove i costi vanno qui e tanzati non è che ci possiamo inventare molte cose, la quei tanzati la si può ottenere con dei flussi bancari, cioè con dei bonifici. Uno strumento abbastanza agile potrebbe essere l'utilizzo di carte prepagate che a quel punto hanno un estratto conto che documentano un flusso. In alcuni remoti casi, ormai è una disciplina sempre meno accettata, ma è uno dei punti da chiedere al nostro funzionario, potrebbe essere accettato il timbro con firma pagato da parte del fornitore sulla fattura. Ma è raro che venga accettato, di solito vogliono proprio avere evidenza del flusso, del flusso reale. Questo è un problema perché pagare a bonifici spese di modesto importo non è semplice. La carta prepagata a volte ci può aiutare. Come procedere? Allora, anzitutto l'atto preliminare che noi compileremo è un consuntivo generale, cioè un prospetto riepilogativo generale che sarà fatto a specchio col nostro budget di progetto. Voi siete bravi, il vostro budget di progetto, siccome avete imparato a usare Excel, l'avete fatto in Excel. Perché fare questi conti con la calcolatrice significa incorrere in errore certo. Allora, ci riprenderemo il nostro file sorgente Excel con cui avevamo fatto il capitolato generale e faremo, lavorando sul stesso file e rinominandolo, adesso andiamo proprio sul mestiere, quello più pedestre e bieco, aggiungeremo sostanzialmente delle colonne. Qui abbiamo le nostre voci di costo, il calcolo del costo che originario lo rinominiamo come appreventivo, metteremo una colonna a consuntivo in cui inseriremo il calcolo dei costi voce per voce che abbiamo effettivamente sostenuto, aggiungeremo una colonna scostamenti che darà evidenza degli eventuali scostamenti tra le varie voci e una colonna riepilogativa. Pensate che questo è come in un'opera un indice. Aggiungeremo una colonna in cui metteremo per ogni voce qual è il giustificativo che si deve andare a cercare. Qui andiamo veramente sull'elencazione dei consigli pratici. Allestire un rendiconto, un'operazione articolata e complessa per noi, molto noiosa per il valutatore in cui dobbiamo, anche se in quel momento magari non c'è molto simpatico, immedesimarci il più possibile. Cioè dobbiamo cercare di costruire, allestire un fascicolo molto chiaro e facile da consultare con un efficace indice generale che è questo. Noi gli possiamo far perdere una mattinata per cercare il giustificativo di spesa perché si nervosisce. Se si nervosisce poi paghiamo dazio anche noi. Più noi rendiamo facile e agevole il suo lavoro, più benefici in termini proprio temporali, cioè di quanto tempo impiegherà quel processo amministrativo a concludersi, avremo noi. Questo è il nostro indice generale. A questo indice generale andremo ad allegare i nostri singoli fascicoli. Abbiamo capito che il fascicolo più articolato da allestire è il fascicolo del costo del lavoro. Il fascicolo si comporrà di tutti i cedulini di paga e tutti i modelli F24 e delle varie autocertificazioni di cui abbiamo parlato, oltre, se richiesto, le evidenze di pagamento bancario, se vogliono anche proprio il flusso del bonifico dello stipendio, del personale coinvolto per tutti i mesi di durata del progetto. Suggerisco di fare un fascicolo ripartito in, immaginate proprio le cartelline trasparenti, rilegato a una serie di cartelline trasparenti in cui mettete una copertina costo del lavoro, mese per mese, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile. È un'operazione che facilita molto poi le operazioni di consultazione. A ogni mese andremo ad allegare quel prospettino che vi ho fatto vedere prima. Io vi sto, come dire, illustrando un po' tutta questa operazione come se doveste farla interamente da soli. Ovviamente qui è una spalla straordinaria un bravo consulente del lavoro, se lo avete, però non è detto che lo abbiate. In generale è meglio delegare poco, o meglio, delegate ma non delegate in bianco, delegate in modo da sapere che operazioni il vostro contraente, il vostro supporto, il vostro consulente sta facendo, perché altrimenti siete dipendenti da competenze altrui. Delegare con verifica oppure delegare sapendo cosa... Eh, voglio questo. Mi fai un prospettino? Esatto. Altri fascicoli. Allegheremo dei prospetti riepilogativi anche per i costi indiretti, che sono le altre capitoli di spesa che abbiamo capito essere un po' articolati. E quindi applicheremo anche in questo caso un prospettino riepilogativo. Cespite, cioè bene sostanzialmente utilizzato. Ufficio, valore dell'ammortamento annuo, qui ci mettiamo il coefficiente, 4.500 euro. Pro quota, l'ho utilizzato per un 10%, perché magari di 100 metri quadri erano utilizzati 10. Pro rata, 1.350. Questa è la voce che io porto effettivamente a rendiconto. Questo dà un'estrema snellezza e trasparenza, soprattutto di lettura, a quello che noi abbiamo presentato. O intendiamoci, io vi auguro di dover gestire i rendiconti molto meno rognosi di questi, perché poi non è che tutti i progetti sono così rognosi, richiedono, non so, ci sono viva Dio progetti più semplici. Però meglio attestarsi sul grado di complessità più ampia in modo che poi con più disinvoltura si affrontano anche compiti più lievi. Va bene. Io mi fermerei un momentino, innanzitutto per accogliere qualche volta la domanda, poi abbiamo ancora poco tempo, io vorrei utilizzarlo, vorrei utilizzarlo in realtà per darvi qualche elemento sul codice di condotta etico dei progettisti sociali, perché mi sembra utile che facciamo un ragionamento anche su questa figura. Però prima vorrei sentire un po' voi come gruppo, se avete ancora dubbi, bisogno di chiarimenti su questa materia un pochino tecnica. La cosa interessante mi sembra è che abbiamo fatto un lavoro di, come dire, allenamento all'elasticità mentale forte, perché in tre giorni abbiamo parlato veramente di temi tra loro molto diversi. Ma ve l'avevo detto, la caratteristica della progettazione sociale è proprio che è una disciplina eclettica, molto, come dire, spazza su ambiti un pochino diversi. Dubbi? Ancora richiesti di chiarimento? Lo prendiamo per buono? Tanto vi verranno quando vi metterete a farli i rendiconti. Sì, ecco, lo dicevo un po' prima a una vostra collega, mi sembra Rita. Qualora, nel periodo successivo a questo nostro corso, vi finisse qualche dubbio, non vi fate scrupolo a mandarmi una mail. Non sarò fulmino nel rispondere, questo ve lo anticipo, però volentieri magari vi mando un chiarimento, se state affrontando un tema particolare su un progetto, insomma, sentitemi un po' a disposizione, anche di bisogni che non nascono adesso sull'aula, ma nel periodo successivo. Se non ci sono punti ulteriori, ho veramente piacere di raccontarvi qualcosa del codice di condotta etico del progettista, non per riflettere un po' veramente sull'aspetto deontologico, ma perché mi sembra utile che insieme ragioniamo sulle caratteristiche fondamentali di questa figura. Non vi leggo tutti gli articoli, naturalmente, vi dico soltanto come è nato questo documento. È nato ovviamente all'interno di un lavoro collettivo, di gruppo, con varie redazioni, emendamenti, insomma il tipico processo di produzione di un atto di normazione, di regolamentazione di un determinato comportamento. Il suo scopo è, non nasce a caso, nasce perché probabilmente qualcuno di voi sa che a gennaio del 2013 è stata emanata una nuova legge, molto interessante per noi che operiamo nel terzo settore, che è la legge sulle nuove professioni non regolamentate. Cioè è esattamente il nostro caso. È una norma di ispirazione, di liberalizzazione del mercato delle professioni essenzialmente, che dà atto del fatto che mentre l'Italia è molto consolidata e attestata sugli ordini, gli albi, le gilde, eccetera, nel frattempo sono nate tantissime nuove professioni di cui nessuno sa niente, che non hanno nessuna disciplina di riferimento e dunque non c'è nessuno strumento di tutela dell'utenza. Se si norma una professione non è a beneficio dei professionisti e a beneficio degli utenti che fruiscono dell'attività, almeno così dovrebbe essere, dell'attività di quei professionisti. Questa legge prevede che le associazioni che rappresentano nuove professioni possano fare delle cose, possano adottare un codice di condotta etico, lo possano pubblicare, possano attrezzarsi per certificare le competenze dei propri associati, possano esercitare attività di garanzia dell'utenza, che quindi si può rivolgere all'associazione e dire guarda che il tuo associato ha fatto cose e non conformi al tuo codice di condotta. E possono anche arrivare, promuovere sostanzialmente una norma tecnica pubblicata da Uni. Su questi presupposti abbiamo cominciato a stendere questo codice di condotta che poi abbiamo approvato nella nostra assemblea annuale. Non scendo in tutti i dettagli, mi interessa presentarvi gli aspetti di definizione fondamentale, peraltro ancora molto vaghi, me ne rendo perfettamente conto di chi è, cosa fa e a che principi si ispira il progettista sociale. Ci siamo detti molte volte in questi tre giorni che il progettista sociale non è, lo dico in modo gergale, un'imbratta carte, non è uno che scrive i progetti. Il progettista sociale è uno che si occupa di disegnare e gestire processi sociali, questo fa essenzialmente. E dovrebbe inserirsi nelle organizzazioni un po' su questo tipo di specificità. Allora, definizioni. Però mi piacerebbe, io ve lo propongo, mi piacerebbe sentire il vostro punto di vista perché altrimenti rischia di essere un po' un processo unilaterale di un'associazione. Il progettista sociale ha ad oggetto dell'attività professionale l'ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione e rendicontazione di progetti di intervento sociale e socio-sanitario, sviluppati tanto in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call for proposals e altre opportunità di enti erogatori di natura, sia pubblica che privata, cioè l'universo mondo dei bandi e dei finanziamenti disponibili, quanto, e questo è un punto importante, autonomamente dall'ente per cui il progettista opera. Cioè potrebbe darsi il caso che un'organizzazione, come dire, faccia un progetto anche se non ha un finanziatore perché magari ha altre fonti, ma comunque l'attività meriterà di essere regolata da un progetto e quindi non gestita in modo casuale. Siccome nessuno me lo chiede allora io un progetto non lo scrivo. Non dovrebbe dal nostro punto di vista funzionare così. Qualunque attività merita di essere inquadrata in termini progettuali, se è un progetto naturalmente, se è un servizio è una cosina un po' diversa. Il progettista sociale svolge la propria attività in forma singola o associata, come dipendente, che devo dire la fattispecie più comune, e collaboratore, anche volontario, può darsi assolutamente il caso che la progettazione sociale sia una delle forme di volontariato, perché no, di enti e associazioni di diritto tanto privato quanto pubblico, o come consulente delle stesse, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, ai fini del miglioramento delle condizioni, e qui vengo a, come dire, un po' i punti, cioè a che serve la progettazione sociale, ai fini del miglioramento delle condizioni umane, economiche, sociali, ambientali, di salute, di partecipazione civile e di partecipazione democratica, incluso il contrasto di ogni forma di discriminazione delle comunità degli uomini e di specifici target all'interno di queste. Allora, noi pensiamo nella modestia, come dire, della nostra identità professionale che lavoriamo per questi scopi qui, né più né meno. Non lavoriamo per fare mero funding, non lavoriamo per semplicemente incrementare il volume delle attività di un'organizzazione, lavoriamo per perseguire scopi di questo genere. Che cos'è un progetto sociale? È la definizione che abbiamo condiviso insieme in questi giorni alla fine. Per progetto sociale si intende un ciclo di attività tra loro collegate e coerenti e circoscritte in un tempo definito e limitato, tese a realizzare risultati, prodotti, servizi, cambiamenti sociali e o culturali misurabili, anche dal punto di vista dell'impatto, nel contesto di riferimento, unici e di apprezzabile utilità per i beneficiari. Il progetto ovviamente è promosso tanto in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare e altre opportunità, quanto autonomamente, si torna sul concetto di cui si opera, dall'ente per cui il progettista opera. Committente. Chi è il committente del progettista sociale? Si intende per committente il soggetto di natura tanto pubblico quanto privata che con la propria iniziativa e il proprio apporto finanziario ha suscitato la proposta progettuale e sovrintende la sua esecuzione. Quindi è la fondazione, l'amministrazione pubblica, in alcuni casi può essere anche l'ente stesso. Chi è il cliente? Per cliente si intende il soggetto, anche in questo caso di natura tanto pubblica quanto privata, per cui opera il progettista sociale e a cui sono destinati i servizi professionali, oggetto di questa regolamentazione qui. Quindi è l'associazione di cui io sono dipendente o sono collaboratore o sono volontario e lei è il mio cliente. Ma oltre che il committente e cliente c'è un'altra figura per noi molto importante che è il beneficiario. Chi è il beneficiario del mio lavoro? Si intende per beneficiario il soggetto, l'insieme dei soggetti che beneficiano in forma tanto diretta quanto indiretta dei risultati realizzati dal progetto. Di tutte le figure, forse la più rilevante è quella del beneficiario. Almeno da un punto di vista di nostra norma etica, la professione della progettazione sociale deve essere molto regolata e orientata al beneficiario, nel rispetto del cliente, della vision e mission del cliente, nel rispetto dell'etica pubblica e della norma pubblica nel caso del committente. E quindi lo riprendiamo negli scopi generali. Quali sono gli scopi? Il progettista sociale ispira la sua attività professionale al perseguimento dell'utilità sociale dei beneficiari, nel rispetto e in accordo alla mission e vision organizzative dell'ente per cui opera o con cui collabora, in conformità agli scopi di solidarietà sociale iscritti nella Costituzione italiana e, poiché ci occupiamo anche di cooperazione e lo sviluppo, alle convenzioni ONU sui diritti dell'uomo, sui diritti dell'infanzia, sui diritti dei lavoratori migranti, sui diritti delle persone con disabilità, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e in conformità a ogni altra convenzione internazionale già promulgata o ad altre convenzioni internazionali che riconoscano e proclamino nuovi diritti. Questi sono gli scopi. Il primo scopo fondamentale è la stella polare dell'attività professionale che deve essere il beneficiario. Diciamo che al bene del beneficiario si subordinano gli altri scopi, gli scopi relativi all'organizzazione, gli scopi relativi al committente. Vi salto gli altri punti, volevo condividere con voi soltanto alcuni aspetti di modalità, come si fa a contrarre il lavoro di un progettista sociale, che è pure un aspetto su cui ancora di fatto non c'è una disciplina condivisa. Il progettista sociale esercita le sue funzioni in tutte le forme ammissibili per leggi di lavoro subordinato, parasubordinato, consulenziale, in forma tanto singola quanto associata, oppure anche a titolo di volontariato professionale pro bono, assolutamente può essere una forma di volontariato, purché sia dichiarato nelle premesse. Il progettista sociale, in caso di prestazione professionale, intraprenderà l'incarico soltanto se l'ambito di lavoro, le condizioni, le responsabilità ed eventuali restrizioni, l'onorario e il relativo metodo di calcolo, nonché la durata del contratto, siano esplicitamente concordati per iscritto, in una delle forme ammesse dal codice civile vigente e dalla legislazione del lavoro. È molto, molto consigliato, noi ne abbiamo fatto un tema di regolamentazione interna che i rapporti, inclusi quelli di volontariato, siano regolamentati, cioè ci sia un atto all'inizio di ogni collaborazione. Chiaro che qui stiamo parlando un po' della figura dell'apporto esterno. Molti progettisti, molti miei colleghi sono dipendenti delle proprie organizzazioni. Laddove tu non sei dipendente della tua organizzazione o sei collaboratore o consulente è bene che ogni volta regoli in forma scritta, l'ambito, i vincoli, gli impegni finanziari, economici, reciproci. Nel caso di contratto di natura libera professionale si applica quanto segue. Il progettista sociale è tenuto a informare il cliente sulle caratteristiche distintive e la natura della propria attività professionale. Gli deve spiegare che lavoro fa, qualora non sia reciprocamente chiaro. Nel contratto sono concordati con il cliente i termini della relazione e del servizio professionale. Gli accordi devono essere chiari, comprensibili e verificabili nel rispetto dell'autonomia del cliente. Al cliente deve essere data l'opportunità di rivedere i termini degli accordi presi. Ovviamente deve esserci una camera di rinegoziazione eventuale. Ovviamente ogni revisione richiede l'accordo reciproco, non può essere unilaterale. Oggetto del contratto è l'obiettivo della relazione o servizio formulato in base alla domanda del cliente con l'indicazione della durata e degli obiettivi prevedibili per il completamento della relazione o servizi. Parte essenziale del contratto sono gli accordi finanziari, ovviamente, che il progettista sociale è tenuto a prendere con il cliente prima dello svolgimento della propria attività. Il compenso non può essere variabile né condizionato dall'esito o dai risultati meramente economici conseguiti dal cliente. Questo per noi è un punto rilevante. Può esserci una criminalità legata al risultato economico. Quello che non può esserci dal nostro punto di vista è un aggancio del titolo retributivo esclusivamente parametrato sul dato economico, il che sarebbe un pochino paradossale. Nel senso che il risultato di un progetto tecnicamente non è in prima battuta finanziario, è un risultato di impatto. Ci sembra un pochino singolare che si parametri il compenso soltanto sul dato economico quando siamo in un contesto di operatività sociale, contraggo il mio rapporto con una APS o con una cooperativa sociale che ha nell'utilità sociale il suo oggetto ultimo e pattugiamo un vincolo soltanto legato a indicatori economici. Vi faccio un esempio. Con chi era ieri in aula vi parlavo di questo bel progetto che stiamo gestendo, di change management su tre cooperative. Quello è un progetto che ha un valore finanziario abbastanza modesto rispetto ai bilanci delle tre cooperative, perché è un progetto da 30.000 euro, ma ha risultati e impatti sociali molto significativi, perché è un progetto destinato a modificare in modo apprezzabile le culture organizzative e i funzionamenti delle cooperative, cioè scarica degli effetti sociali rimarchevoli, forti. Non si può contrarre un compenso legato soltanto al dato economico, che non tenga conto anche degli impatti sociali. È vero anche il contrario. Non è che perché io ho portato a casa un progetto da 500.000 euro, allora mi porta a casa, noi a Roma diremmo la stecca, da 5%, quando magari il mio effort è stato molto basso. Non ci sarebbe equità. Guardate, non va bene neanche per i fundraiser, che si stanno sottraendo a questo tipo di logica, quindi meramente a percentuale. Però lì c'è un dato, cioè il fundraiser di che si occupa? Si occupa di portare a casa risorse economiche. Il progettista sociale in realtà non ha nel portare a casa risorse economiche il suo primo indicatore. È chiaro che è una componente farsi approvare il progetto. Però il cuore, il fulcro della professione è istruire, realizzare, condurre e valutare progetti che abbiano degli impatti sociali. Ecco, questo è un punto, cioè noi l'abbiamo normato in questi termini qui quanto alla definizione, gli scopi e le condizioni. Siamo in un work in progress, cioè siamo nella fase proprio... Ci piacerebbe molto costruire e condividere identità professionale su questo. Io ve lo ripeto, insomma, anche in streaming. Un'idea molto bella sarebbe provare a costituire un gruppo locale di progettisti sociali, dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali, perché credo che è un tema, un fronte talmente nuovo che nessuna associazione può permettersi di agire in modo unilaterale. C'è veramente bisogno di raccordo territoriale e di tanta solidarietà professionale. Quello che abbiamo fatto qui in forma più istituzionale, di formazione, se volete anche un pochettino frontale e top down, in realtà non è il modo in cui noi come associazione realizziamo formazione dove viceversa vige molto più la logica dello scambio, della autoformazione, della mutua formazione, della formazione continua, in cui in una comunità professionale le competenze sono molto distribuite e capite che per il tipo di attività che noi svolgiamo non può che essere così, non si può essere esperti di tutto. Ecco, questo è un po' quanto, mi piacerebbe sentire un po' il vostro punto di vista, che tipo di interesse ha un'operazione del genere. a dirlo, chiamato in causa su questa cosa, questi punti nella lettera contratto, lettera di incarico, qualcosa del genere, devo citarli tutti? Cioè il fine generale progettista sociale oltre all'argomento? Ecco, questa cosa. No, no, altrimenti viene fuori uno zanichelli invece di una lettera contratto. No, diciamo che in una lettera contratto un accordo dovrebbe contenere i punti essenziali, cioè risultati output, diciamo, il mio lavoro che cosa produrrà alla fine, modalità di lavoro, aspetti retributivi ed eventuali premialità e il razio dei pagamenti, cioè entro quando, con che scadenze e a che condizioni, verrà erogato il compenso professionale. Questi aspetti fondamentali, che però siano ben regolati. Ecco, forse un aspetto che spesso, adesso sto parlando proprio del lavoro consulenziale, quindi parlo molto della mia esperienza soggettiva, un aspetto che forse a volte merita un po' di regolamentazione sono le forme di coordinamento. Nel senso che non si può, chiunque gestisce un'organizzazione sa che non può conferire chiavi in mano a scatola vuota il compito della progettazione, perché io magari non ne so molto della tua organizzazione e ho bisogno da te spondo, ho bisogno di fare progettazione con te, non che tu mi dici vai scrivi il progetto perché non ha alcun senso. Allora forse una cosa che in alcuni casi quando con l'organizzazione non mi conosco è che definisco nel quadro dell'accordo che ci sarà una riunione settimanale che faremo tre conference, che l'organizzazione è tenuta a fornire documentazioni, informazioni, dati eccetera eccetera, è tutto quanto necessario al buon esito della collaborazione. Questo è un aspetto che in alcuni casi vale la pena, perché altrimenti come dire io sono in una condizione di non poter realizzare un progetto vero. Quanto può essere onesto un progettista nei confronti di chi va a chiederle la propria disponibilità? Tipo per esempio quanto può un progettista dire alla cooperativa o all'associazione questa è inutile che io la faccia? secondo me deve essere sempre onesto, deve sempre dire guardate, insomma anche se sono in 1500 in streaming possiamo dircelo aperti sverbis, io credo che un progettista e non sto parlando soltanto del consulente esterno, sto parlando anche del dipendente, anzi forse soprattutto del dipendente, deve poter dire ai suoi responsabili signori stiamo strumentando un'iniziativa un po' autoreferente, cioè che serve dei nostri obiettivi interni ma che non produce impatti sociali significativi. Poi troveremo un punto di negoziazione, poi le organizzazioni hanno bisogno di autosostenibilità, stiamo sulla terra, non stiamo sulla luna, quindi lo faremo. Però che il progettista eserciti una funzione critica, cioè che dica guardate, parliamoci chiaro, questo non è un vero progetto, qui stiamo strumentando quella che noi a Roma chiameremmo una marchetta per sostenere la nostra organizzazione, almeno diamocene atto e poi faremo il necessario, insomma. Però ecco, questo aspetto secondo me deve essere molto serio, molto trasparente, cioè un po' un custode della serietà, deve tenerci, deve tenerci la serietà del suo lavoro, perché se non ci tiene lui non ci terranno gli altri, insomma. E secondo noi così fa un servizio, cioè migliore i contesti organizzativi in cui si trova a lavorare, non è se è il rompiscatole di turno, deve essere quello che ci mette il suo pezzo di competenza per far crescere una cultura comune, ecco. Poi, quella necessità di utilizzare, insomma. Se posso ancora un'altra domanda. Se qualcosa va storto, abbiamo una scadenza, tra una settimana scade un bando, ok, dobbiamo stare sulla scadenza, non sulla deadline. Succede un motivo X, che c'è magari la mancata collaborazione, appunto, che quei dati, quei documenti, quelle richieste partnership, ognuno, il pezzettino di lavoro che chiaramente non può far da solo il progettista o l'agenzia di progettazione. Quindi non c'è una collaborazione. Arriva la scadenza e quindi siamo ancora con le carte in mezzo, quindi non si è pronti a mandarlo. Non viene onorato l'impegno formalmente. Ecco, se succede, che succede poi a quel punto? Che si fa? Cioè, dal punto di vista deontologico, si ridà un acconto ricevuto, oppure ci si riunisce per capire che cosa non è funzionato? Ecco, ma se ci sei passato, come funziona questa roba? No, a me, francamente, non è mai capitato. Dove essere del tutto adesso, non mi è capitato. Perché non mi è capitato? Forse perché ho avuto contesti organizzativi abbastanza solidi, cioè che mi hanno accompagnato anche in fase di progettazione. Non è facile disciplinare una fattispecie del genere. Come fai a disciplinarla? A meno che nell'accordo contrattuale non ci siano delle clausole molto chiare su che cosa compete a me progettista e cosa compete a te organizzazione, non è proprio semplice determinarlo. In generale diciamo che deve esserci un principio comune, che il rischio si condivide. Cioè il rischio, se volete, di impresa legata a un progetto deve essere condiviso. Non lo si può scaricare sull'individuo, perché non è equo, semplicemente non è equo. E il professionista esterno, qui stiamo parlando molto del consulente, però non mi piacerebbe focalizzarmi solo sul consulente, che poi tra l'altro è numericamente poco. Cioè la gran parte dei progettisti non sono consulenti, sono organici ai propri enti. Nel caso dell'apporto esterno ci deve essere questa equità di fondo, cioè un rischio lo si condivide. Capite che anche il ragionamento del ti pago a percentuale se il progetto viene approvato, di fatto ha un limite di equità anche, nel senso che scarica sul soggetto più debole. È chiaro che anche le organizzazioni sono deboli perché hanno una seria crisi di sostenibilità. Però l'individuo, se possibile, è ancora più debole del collettivo. Il rischio è interamente scaricato sul singolo. Allora lì, io ti dico, alla fine si fa sempre un ragionamento di sostenibilità del proprio apporto professionale, perché alla fine se tu contrai un rapporto consulenziale con un ente è perché vuoi aiutarla, non perché ne vuoi aumentare le criticità. Allora hai sempre un occhio molto attento sulla sostenibilità dell'apporto che dai e però anche bilanciato sul piano dell'equità. Non accetterai condizioni troppo capestre in cui l'intero rischio è consegnato a te, che magari lavori due settimane, tre settimane a fronte di un risultato pari a zero. Questo è un altro falso mito, che il risultato progettuale sia interamente funzione di quel prestigiatore che è il progettista. Non è così. Non è così. Cioè i progetti passano anche perché dal progetto risulta un consolidato di attività significativo. Che io scrivo un progetto per Save the Children o per l'associazione Pippo Formaggio, non è la stessa cosa. Il progetto di Save the Children ha enormi chance di essere approvato in più, per ovvie ed evidenti ragioni, su cui non voglio scendere troppo in dettaglio. Capite che non si può, e questo è vero anche per il fundraising, non è che tutto dipende dall'abilità del fundraising, molto dipende anche dal contesto organizzativo. Allora, suggerimento. Qui secondo me non ci sono neanche norme perché poi dipende molto dalla sostenibilità dell'organizzazione. Signori, io progetti gratuiti ne ho fatti 200.000 in vita mia per l'associazione di volontariato. Però ce lo siamo detti, SOF ha volontariato perché mi piacete, perché la vostra missione è bella, perché so che non avete le risorse economiche e non è giusto chiedervi. L'importante è che ci sia trasparenza, che non ci siano dinamiche in cui si sfrutta la debolezza contrattuale, se volete, della controparte. Come fa un'organizzazione appena nata a vedersi approvato un progetto dato che non ha un background alle spalle? Cioè deve puntare tutto sulla qualità del progetto a questo punto? Sì. Che non avendo, come dicevamo prima, non essendo Save the Children, non avendo una storia, un'esperienza... Nella mia esperienza il progettista è una figura soprattutto strategica in fase di start-up. Cioè quando è che ti serve un progettista veramente in gamma? Paradossalmente ti serve nella fase di incremento dell'attività, di crescita. Quando raggiungi una certa dimensione e aumentano in realtà altri problemi, cioè di sostenibilità corrente dell'attività, paradossalmente un progettista potrebbe crearti dei problemi. Cioè non è detto che l'incremento di volume di attività sia un modo per risolvere la sostenibilità organizzativa. A volte incamerare sempre nuovi progetti, approfondisce la fossa. Il progettista è una figura tipicamente al servizio della crescita. In fondo serve più la strategia che il singolo progetto. Le organizzazioni che hanno la fortuna di avere un progettista interno, integrato, o di essersi cresciuto in casa da risorse, di essersi allevato il giovane, eccetera, devono soprattutto abilitare questa persona, aiutarla a crescere, perché diventi la persona che serve la strategia. Io non so veramente come insistere, non è tanto importante il progetto, è importante la strategia dentro cui hai il progetto. È il lavoro che abbiamo fatto ieri. Non è detto che il bando ti consenta di presentare tutte e quattro le linee, ma tu devi avere una strategia dentro cui poi andrai a... E questo è il lavoro del progettista sociale. Cioè è uno che si mette al servizio del... Tipicamente quello che in ambito aziendale si chiamerebbe l'operational manager. Cioè il braccio destro dell'apice organizzativo che aiuta l'apice organizzativo a trasformare la mission e la vision in attività concreta. Perché l'apice organizzativo normalmente non ha questo come compito. Chi ce l'ha internamente o chi l'ha levato, un progettista dovrebbe chiedergli questo. Cioè cresci per diventare non tanto lo scribacchino di progetto, poi lo farai lo scribacchino, poi i fogli lì. Ovviamente è il tuo compito farlo fino in fondo. Anche occuparsi delle rogne di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa. Ma non dimenticare mai che la direzione è servire una strategia. Ideare, allestire e condurre una strategia. Onorario? In sede di accettazione di incarico il progettista sociale si accerterà che l'onorario sia equamente commisurato alla portata e all'importanza del lavoro. Eventuali rimborsi spese, compensi aggiuntivi o qualunque altro tipo di utile derivanti da terzi potranno essere percepiti soltanto se così preventivamente concordato col cliente. C'è pure un articolo sul volontariato perché ci è interessato disciplinare. C'è un motivo per cui abbiamo insistito nella carta etica sul volontariato. Perché riteniamo che nel terzo settore c'è una esasperazione della dimensione operativa del volontariato, come se non ci fossero altri ambiti di prestazione volontaria molto belli, cioè il terzo settore non è solo impresa sociale, è anche partecipazione civile e passione civile e non è detto che la passione civile debba essere esercitata in modo casuale e deprofessionalizzata. Secondo noi un progettista sociale, questo è quello che chiediamo a ciascuno di noi, deve riservare, quando è un professionista esterno o anche quando è un dipendente, una quota del suo tempo al volontariato. Cioè non esiste un progettista sociale che non ha passione civile e che non investe su fronti del genere. Quindi ciascuno di noi è tenuto a dedicare una quota di tempo che di anno in anno il consiglio direttivo determina o alla solidarietà professionale verso altri colleghi sotto forma di volontariato professionale o al volontariato come progettista per organizzazioni più deboli, per l'associazione di volontariato. Perché altrimenti rischiamo di fare il terzo settore schillato, professionalizzato e il terzo settore che spesso è quello che veramente incide sui territori, perché poi ci sta il volontariato nei contesti del volontariato proattivo, che però è dequalificato, deprofessionalizzato. Ecco, questo è un aspetto che quando si qualifica una figura, l'aspetto che se volete un po' ci preoccupa è che si rischi di creare delle schizofrenie. Noi non vogliamo questo. Ci teniamo a professionalizzare la figura, ma vogliamo che sia un beneficio per il comparto, non per singoli segmenti del comparto. E l'una? Abbiamo finito? Allora salutiamo a voi, vi chiedo magari ancora cinque minuti soltanto per un po' di saluti. E invece saluto e ringrazio la pazienza di chi è stato collegato in streaming, è una fatica improba, mi capisco. Mi ringrazio dell'ascolto. Arrivederci. E allora, grazie. Grazie a Antonio Finanziagro, quindi da Roma, ultimo docente di questo laboratorio dal basso qui a Crispiano, provincia di Taranto, sullo stress da terzo settore. Chiaro ci porteremo a casa ognuno per quel che ha potuto diverse argomentazioni da un mese e mezzo a questa parte. Ecco, siamo scesi molto nel pratico in queste ultime tre giornate, come si è visto, quindi veramente grazie. Mi approfitto, se ancora abbiamo lo streaming, per lanciare un appello. Pare che ci siano state almeno dieci persone che chissà da dove hanno chiesto anche di iscriversi ai progettisti per sociale all'APIS nazionale. Sarebbe molto interessante, rilanciando immediatamente la proposta fatta anche da capo, poc'anzi, dal nostro docente ospite, e quindi dire se sono persone che stanno in Puglia, per esempio, facciamoci vivi tramite Facebook, ad esempio la pagina evento, che non viene chiusa oggi o domani mattina, stress da terzo settore, l'evento pubblico, quindi starà ancora lì, riverseremo ancora dei materiali, dovremo rendicontare anche all'arti regionale che ci ha permesso di star qui tutte queste giornate, quindi anche documentazione di impatto sociale, no? Perché noi abbiamo fatto a titolo assolutamente di volontariato come gruppi capofila, come associazione Ascolta e Aiuto, come Circolarci, Wisp, Crispiano e tutti gli altri, come amministrazione comunale, quindi nessuno qua si è messo un euro in tasca, quindi Arti ha finanziato l'intera manovra, ma gli ospiti locali sono mossi in puro spirito di volontariato, ma ne valsa la pena. Quindi siamo molto contenti eventualmente di avere anche suggerimenti, anche da chi ha seguito in streaming, anche per un'eventuale prossima volta, anche per dare, soprattutto, suggerimenti proprio ad Arti Puglia. Vedevamo poco fa che avevamo 1.500 contatti in questo momento qui, ce n'erano 2.800 per un altro laboratorio di altri colleghi sull'agricoltura che oggi in concomitanza da un'altra parte in Puglia si stava tenendo. Quindi stiamo parlando di numeri anche abbastanza considerevoli e sarà corretto ora, dopo il 20 novembre, tirare le somme a tutto ciò. Quindi rinnovo l'invito a collegarsi, a mandarci foto, suggerimenti, critiche, tutto quello che può essere utile anche per capire poi il livello di organizzazione locale, ma anche di Arti Puglia, se è stato all'altezza della situazione. Io stesso personalmente avrò da dire qualcosa, da chiedere qualcosa, e questo è evidente nei fatti. Anche ai docenti sarebbe stato curioso e interessante chiedere, a livello anche di ospitalità, di organizzazione locale, e poi anche dal punto di vista dello staff regionale. Se tutto è funzionato, vuol dire che tutto sommato ce l'hanno fatta ad arrivare, a ripartire i docenti, un mimo di platea l'abbiamo avuta, forse sarebbe stato ad esempio opportuno avere un mimo di sostegno economico, ad esempio per comprare degli spazi pubblicitari sui giornali locali, ma chi li legge i giornali? Allora su delle emittenti locali? Ma devo guardare quell'emittente locale, ad esempio Studio 100 per citarne una ultralocale provincia di Taranto? Cosa è così, per esempio? Allora, tutto ciò è comunque materia molto interessante. Ora, per chiudere, voglio ritornare a fare uno spot per l'altro laboratorio dal basso, due soltanto in provincia di Taranto, l'altro è ancora quasi all'inizio, si è tenuto un solo modulo, stiamo iniziando adesso, chieda Rita di spostarsi, quindi da martedì prossimo a venerdì sono quattro giornate piene, è evidente che non tutti hanno la disponibilità di tempo di stare quattro giornate per intero da mattina a sera, però è importante seguire, almeno sono moduli con quattro docenti che si alternano ogni giorno, tre docenti in quattro giornate, quindi mi dedico una giornata, vado e la frequento, ok? Quindi questo è importante. Ho commesso un errore prima, preso da entusiasmo, per chi è connesso a stamattina presto, dalle 9.30, le 10 circa, attenzione, errore, quindi è giusto ammetterlo, Marianella Sclavi non verrà il 13 di novembre, ma il 18 novembre o il 19, insomma, lo verifichiamo, abbiamo comunque modo di farlo, andando anche lì nella pagina evento su Facebook, per una città desiderabile, è l'unico laboratorio dal basso finanziato a Taranto città, quindi facilmente lo trovate, associazione Solimai è la capofila Arci Ragazzi, Taranto e Arci Crispiano sono i partner progettuali insieme al Comune di Taranto e alla parrocchia Corpus Domini di Paolo VI, perché è lì che si tiene, quartiere complicato a Taranto, periferia, questo è, mentre il 13 verrà Iolanda Romano, mica cotica si dice a Roma, perché stiamo parlando di una delle massime esponenti come architetta a livello nazionale, Avventura Urbana è l'agenzia che lei ha messo su anni fa e loro si occupano anche di mediazione dei conflitti dal basso con le istituzioni, i NOTAV, non da Molina a Padova e altre cose, beh, dietro spesso, anche se a tempo scaduto, sono state chiamate esperienze come quella di Iolanda Romano, preziosissima da eventualmente andare a ascoltare. Il 20 novembre si chiuderà questo laboratorio, quindi ci saranno almeno altri sei docenti e andremo fino al 20 novembre, addirittura il 20 novembre avremo poi una giornata particolarissima non tanto di lezione frontale ma di esperienza sul campo, come è organizzato un po' quel laboratorio dal basso in città a Taranto e lì verrà ad esempio Lorenzo Bocchese che è il vicepresidente nazionale di Arci Ragazzi. A far cosa? Insomma, andiamo a leggerlo sul sito, sul Facebook e troviamo un po' tutto. Nuovamente la parola a Antonio Finazzi. Sì, no, soltanto per dirvi, ma siamo ancora in streaming? Ok. I materiali, come facciamo per consegnare le slide? Se non sono molto pesanti, li versiamo immediatamente sul sito Facebook, sulla pagina Facebook. No, sono un po' pesanti. Ci facciamo andare in inizio, ma ora diciamo... Va bene, sì. Suggerimento, adesso ci lascia una pennetta, tra l'altro marchiata Apis, quindi la nostra associazione nazionale, questo è un associato, è questo. Allora, i materiali, già che sono pesanti da riversare tutti su Facebook ad esempio, come sarebbe anche corretto fare, mandateci una mail, anche su Facebook, in posta privata, come associazione Ascolte Aiuto o altro, insomma, trovate anche i nostri riferimenti di cellulare, insomma, non è complicato, chiedeteci e ovviamente li daremo gratuitamente, come tutto il corso è stato improntato e cercheremo di diffonderceli, va bene? Domande? Sì, ora vediamo con i tempi contingentati. Allora, veramente grazie a tutti e naturalmente grazie a voi presenti qui, grazie a chi è stato in streaming, grazie ai nostri tecnici, per queste giornate è stato un lavoro anche laborioso e ancora grazie a Antonio Finanza-Cro. Grazie a tutti.